Sono Elisa D'Amore e faccio parte del Comitato di Imprenditoria Femminile della Camera di Commercio di Torino in rappresentanza di Coldiretti Torino. Le donne sono una vera risorsa per l'agricoltura. Gli ultimi studi di Coldiretti ci fanno notare che quasi il 23% delle aziende agricole sul territorio piemontese sono guidate da donne. È un'agricoltura diversa volta alla multifunzionalità quindi a produrre e a fornire servizi sul territorio oltre che cibo e bene primario. È un'agricoltura attenta alla biodiversità, è un'agricoltura attenta all'ambiente quindi un'agricoltura più innovativa. Per quanto riguarda invece il lavoro all'interno del Comitato di Imprenditoria Femminile le nostre intenditrici si sono sempre rese molto disponibili soprattutto all'interno delle varie edizioni del Salone del Gusto realizzando e collaborando ai veri e propri laboratori per l'educazione alimentare che sono sempre più importanti oggigiorno e inoltre hanno dato un grosso contributo per la realizzazione di quaderni per l'imprenditoria femminile che raccontano le storie delle diverse impeditrici sul territorio.